Benvenuti nello spazio della prima lezione di questo video corso base di greco antico aperto a tutti perché si comincia da zero. Quindi ciò significa aperto anche a studenti adulti autodidatti che magari hanno scoperto in età adulta la bellezza e il fascino delle lingue antiche ma sicuramente corso che si propone di essere un valido aiuto per studenti liceali, ginnasiali in primis che cominciano a studiare greco e latino per la prima volta e in ultimo ma non per ultimo studenti universitari che devono sostenere crediti formativi relativi allo scritto di greco. Come prima lezione seguendo in parte il modello del videocorso di latino base già precedentemente pubblicato e sponsorizzato sul sito il nostro corso si concentrerà principalmente sulle tre aree grammaticali fondamentali delle lingue antiche in particolare fonetica, morfologia e sintassi a sua volta articolata in sintassi del verbo di casi e del periodo abbracciando dunque gli argomenti che almeno teoricamente dovrebbero essere affrontati nel biennio del ginnasio ma che nella pratica non vengono quasi più trattati e la conseguenza naturale è che poi non si possono tradurre brani d'autore a parte le versioni standard delle raccolte non sempre originali e comunque reperibili online in vari siti già tradotte e neanche in buon italiano il più delle volte. Noi invece cercheremo di lavorare bene con metodo, con criteri logici e soprattutto avendo chiara la finalità del corso stesso. Il greco antico come il latino non sono più lingue parlate ma sono invece lingue che sopravvivono solo in forma scritta nei documenti e nei brani degli autori. Quindi l'obiettivo non è parlare il greco dal momento che il greco che si parla oggi in Grecia non è il greco antico ma piuttosto l'obiettivo sarà tradurre in buon italiano passi di autori greci il che significa lettura del greco antico, riconoscimento delle forme flesse studiate in morfologia direttamente nel brano, comprensione e traduzione italiana corretta. La traduzione letterale può andare anche bene ma dove il senso stenta a decollare necessariamente la traduzione va aggiustata e corredata di note altrimenti il rischio è che al liceo una traduzione di questo genere va più che bene. Poi magari però lo studente si iscrive all'università a filologia greco-umana e non passa l'esame di greco e di latino. All'università infatti una traduzione letterale fatta male dove il senso del brano nel suo complesso manca significa bocciatura e quindi tempo perso e ve lo dico per esperienza ormai pluriennale. Tante volte anche prima del covid mi è capitato di seguire privatamente studenti universitari iscritti al primo anno di lettere classiche con media dell'otto e del nove al liceo che purtroppo non avevano passato di iscritti di greco e latino. Cosa è successo nella sostanza? È successo che questi ragazzi avevano nella loro preparazione un'idea ed una percezione sbagliata per colpa della didattica odierna del greco e del latino al ginnasio e al liceo che esagerando con queste traduzioni letterali iperestese a dimostrazione che lo studente studia la grammatica poi portano a disastrosi risultati negli iscritti universitari di greco e di latino. Da parte mia vorrei evitare questo perché a differenza della scuola io ai ragazzi tengo in modo particolare e quindi provo nel mio piccolo e secondo le mie possibilità ad aiutare il più possibile gli studenti ad avere del latino e del greco una percezione reale specie poi se lo studente intende proseguire gli studi universitari scegliendo lettere classiche come facoltà. E devo dire che nel corso degli anni sono riuscita fortunatamente ad instaurare un rapporto di fiducia con famiglie e ragazzi e sono sempre più che felice quando li vedo riuscire negli studi e posso dare un po' di serenità considerata tra l'altro l'età particolarmente delicata dell'adolescenza e i tormenti che ne possono derivare. Quindi inutile dirlo l'approccio, il metodo e le tecniche da noi utilizzate in questo videocorso sono quelle compatibili con il metodo grammaticale traduttivo il quale a differenza degli approcci comunicativi utilizzati per le lingue moderne parlate è il solo metodo utile e funzionale allo studio della grammatica non per imparare le forme a memoria ma per riconoscerle sui brani e quindi tradurli. Oggi cominciamo da capo, dalla fonetica. Gli argomenti di volta in volta introdotti e spiegati saranno riportati nel menu contestuale a sinistra dello schermo e colorati in giallo il che significa link attivo. A mano a mano che prosegue un po' con l'esposizione si accendono nuovi link cosicché siate sempre orientati nel discorso, specie chi veramente comincia da zero. Dedicheremo alla fonetica l'intera lezione concludendo poi il discorso nella successiva in cui parleremo di accento, di enclitiche e di proclitiche. Ci sono in realtà molti altri fenomeni di fonetica sintattica ma preferirei parlarne in sede morfologica aprendo degli specifici approfondimenti fonetici perché ritengo sia più funzionale che voi vediate in atto tali fenomeni fonetici, ad esempio il fenomeno della contrazione. Piuttosto che limitarne ad una spiegazione teorica della contrazione, quando studieremo la declinazione contratta e la coniugazione contratta, inseriremo il relativo approfondimento sulla contrazione, che cos'è e come funziona. L'argomento della prima lezione è invece l'alfabeto perché credo come sappiate anche chi si affaccia per la prima volta allo studio del greco antico, l'alfabeto greco presenta caratteri diversi dall'alfabeto latino pur essendo entrambe lingue indoeuropee e vi darò a tal proposito poi una piccola infarinatura sull'indo europeo e sulla ricostruzione di questa lingua scomparsa, sempre rimanendo nei limiti di un corso base di greco che dunque non prevede uno studio così approfondito di linguistica storica e di linguistica comparata. Partiamo da una definizione di fonetica o meglio cerchiamo di capire cosa studia la fonetica e che ruolo esso vivesse nel contesto più ampio della grammatica relativa ad una lingua. La fonetica studia i suoni di una lingua così come sono pronunciati e descrive altresì le diverse modalità articolatorie con cui l'apparato fonatorio umano produce diversi suoni.